Eccoci di nuovo insieme con il consueto appuntamento con le pillole di Deutzfar. Oggi esploreremo gli assali della nuova Serie 5 Keyline. La Serie 5 Keyline monta gli assali progettati e sviluppati da SDF. Le caratteristiche li rendono ideali per i trattori di questo segmento. Vediamole insieme. L'innesto delle quattro ruote motrici è di tipo elettroidraulico, così come l'innesto del bloccaggio del differenziale al 100%, caratteristiche premium per un trattore multi-utility. Il modello 5105 Keyline è disponibile anche in versione Plus, con assali rinforzati, pensati per l'applicazione con il caricatore frontale. Per le sue dimensioni è il trattore ideale per movimentare i carichi all'interno dell'azienda agricola. La sala anteriore arriva fino a 55 gradi di sterzata, garantendo un'ottima manovrabilità. Unito al passo di 2,4 metri, rende il trattore agile e maneggevole. Per tutte le combinazioni possibili di pneumatici è possibile scegliere fra cerchi fissi e cerchi regolabili, garantendo al cliente la massima possibilità di scelta. Entrambi gli assali sono dotati inoltre di freni interni a disco in bagno d'olio, che garantiscono sicurezza ed efficacia nelle frenate. La sicurezza è sempre al primo posto. Grazie per la visione!